È iniziato ieri al Parco del Castello il Festival delle Città del Medioevo organizzato dall'Ateneo dell'Aquila e supportato dal Comune, che terminerà il 7 luglio, un festival dedicato quest'anno alla città e all'acqua. Un appuntamento che nella prima edizione ha avuto un grande successo e che vedrà confrontarsi studiosi ed esperti di fama nazionale e internazionale. Il fulcro di tutto è il Parco del Castello, che ospita il Villaggio dei Rievocatori, una cittadella medievale con accampamenti, associazioni templari, falconieri, sartes, bandieratori, amanuenzi, tantissime attività anche per bambini, attività didattiche, mostre e esibizioni. Ci aspettiamo un successo di pubblico perché l'Aquila ha risposto benissimo lo scorso anno e quest'anno abbiamo deciso di replicare con l'Università dell'Aquila e il Comune dell'Aquila, proprio perché hanno tutta l'intenzione di valorizzare questa città, di abituarla a questi eventi di alta divulgazione scientifica, di avvicinare le persone alla storia, alla conoscenza, alla passione per i libri. Ecco, tantissimi studiosi, esperti, insomma, faranno un giro per delle lezioni e molto di più in questi giorni, segno che anche l'Aquila, la sua università, riescono ad attirare sempre molto. Sì, abbiamo coinvolto non solo colleghi, quindi storici o archeologi da Italia e da tutta Europa, ma abbiamo intercettato anche i giornalisti, scrittori, quindi ovviamente autori di chiara fama nazionale e internazionale, questo appunto, come giustamente diceva, conferma la valenza dell'Aquila, l'importanza dell'Aquila nel panorama culturale italiano.